Salve a tutti friends dal vostro supercorris Eccoci qua ragazzi Parliamo della situazione Mercedes Ve l'avevo anticipato nel video di questa mattina Dove abbiamo fatto questa piccola pagellina di inizio stagione E vi ho detto Mercedes è in una situazione abbastanza complicata Ma non solo perché iniziano a scricchiorare alcune situazioni Sembra che anche quest'anno abbiano sbagliato parzialmente la macchina E soprattutto iniziano ad esserci problemi con Hamilton Che è già promesso sposo di Ferrari Qua non lo so se qualcuno lo dirà Io credo che anche Mercedes Hamilton lo sta trattando un po' da rincalzo Visto che abbiamo visto Strategia non al top Hamilton che non riesce a guidare la macchina Dopo che l'anno scorso ha asfaltato Russell Vedremo, vedremo nella stagione secondo me Mercedes farà di tutto per mettere in difficoltà Hamilton quest'anno Però comunque andiamo Partiamo subito Come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali Se volete lasciate un bel like Seguitemi sui miei social C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercorris & Friends Link di papà in descrizione Chi mi vuole aiutare a raccogliere fondi Da donare in beneficenza Può fare anche un euro di donazione Fine mese verrete tutti ringraziati C'è il sostegno e l'aiuto al mio canale Donazione, abbonamenti Potete aiutare il mio canale a crescere, a migliorarsi L'obiettivo è l'acquisto di un PC che deve arrivare a breve Delusione Mercedes Wolf parla di grosso problema Mentre Hamilton mette in dubbio il concetto della V15 Allora, i test hanno lasciato un dubbio Sulle prestazioni della Mercedes V15 Che però dopo due gare Sta mettendo in risalto problemi importanti Che si trascina dallo scorso anno Come un'instabilità aerodinamica a alte velocità A Jed, il team di Bracley È stato addirittura a quarta forza Non trovando un giusto compromesso Tra efficienza e carico aerodinamico Soprattutto ad alte velocità Il team principal spiega che c'è un errore Negli strumenti in fabbrica Che indica un valore di carico superiore Rispetto a quello che si trovano in pista Minchia ragazzi, sarebbe veramente una cosa assurda Se gli strumenti sono fuori uso E gli hanno fatto sbagliare il progetto Mercedes è senza dubbio La più grande delusione di questo inizio di Mondiale 24 Dopo i test Corsi con programmi piuttosto diversi Rispetto ad alcuni competitors Come Ferrari e McLaren C'era molta curiosità intorno alla V15 L'hype si era certamente alzato Anche per via delle importanti parole di James Ellison Che aveva messo la propria vettura al secondo posto Parlando di una migliore competitività della V15 In termini di passo gara rispetto alla Ferrari Tuttavia all'interno della Mercedes Non c'era un pensiero univoco Su dove si aspettavano di essere Lewis Hamilton era stato infatti molto negativo Nei pre-weekend del Baren La V15 è una piattaforma migliore Ma abbiamo ancora alcuni problemi su cui dobbiamo lavorare Una situazione non è perfetta Aveva affermato È sicuramente un punto di partenza migliore Rispetto agli ultimi due anni Ma non siamo ancora dove vorremmo essere Ovvero competere con la Red Bull e la Ferrari Quindi Hamilton già l'aveva detto Non è la prima volta che Hamilton Presenta un'opinione diversa Da quella di alcuni membri della sua squadra E spesso quando parla in quel modo Un importante fondo di verità c'è Sono abbassate due gare Su piste molto diverse Per verificare che quanto detto Dal sette volte i campioni del mondo era vero Se in Barenzi era presentato Quell'importante problema al motore Che aveva limitato all'inizio alle V15 A Jedda Non c'è alcuna scusa che può giustificare Una gara da quarta-quinta forza Dietro a Red Bull, Ferrari e McLaren In il lotto con Aston Martin Ma soprattutto in confronto a Ferrari Che sta dando ragione agli uomini di Maranello Che sono saldamente seconda forza Jedda, il passo di Leclerc Che è stato a quattro decimiliare della V15 La stessa distanza che c'è La Red... Eh sì Sì, sì, uguale La Red Bull e la Ferrari 4 decimiliare Che cazzo di minchioni che sono questi qua comunque La macchina è buona A bassa velocità E non è così male alle medie velocità Ma alle alte velocità Che siamo lontanissimi dagli altri Ha spiegato Hamilton Una verità assoluta Visto che la V15 Nei tanti veloci Jedda Era una vettura da basso Midfield Presentandosi in media Con 10 km orari da Ferrari McLaren a Ston Martin Addirittura a 12 della Red Bull Alte velocità La V15 Era penultimo team in pista Sono davanti Sono davanti all'As Competitiva come la Sauber Addirittura leggermente peggiore di Alpine Racing Bull e Williams Ne è uscito un crono Nello Snake Da curva 4 a curva 10 Peggiore di 3 decimi Della Ferrari Di Leclerc 4 decimi Della Red Bull Di Verstappen In qualifica Menti in gara addirittura Si ampliava un secondo Wolf abbiamo un grosso problema Ma contiamo a spingere al massimo Mercedes è scesa In pista Jedda Con un'ova ala posteriore Piuttosto scarica Ma che come bilanciamento In termini di tempo sul giro Avrebbe dovuto migliorare Rispetto all'area a medio carico Del Baren Sapevamo di avere un'ala posteriore Più piccola Ma stavamo compensando Ciò che stavamo perdendo in curo Il problema È che perdevamo troppo Alle alte velocità Fatto sapere Wolf Secondo l'ex team principal Campione del mondo C'è qualcosa di più importante Della mancanza di prestazione Della alte velocità Rispetto a una semplice questione Di ala posteriore Ossia la V15 Manca di carico aerodinamico Oltre a quello Che potrebbe avere Con un ala posteriore più grande Un qualcosa che Mercedes ancora non ha compreso Abbiamo un grosso problema I nostri sensori Le nostre simulazioni Dicono che in un certo intervallo Di velocità Dovremmo avere una Determinata Qualità di carico aerodinamico Ma in realtà non l'abbiamo Affermato deluso Ma non rassegnato Perché secondo me Faranno di tutto per migliorare La V15 è una vettura Certamente migliore Di quella della passata stagione Ma si porta dietro alcuni limiti A parte anche il modo In cui ci vuole Per funzionare Ossia piuttosto vicino all'asfalto Un qualcosa Su cui Hamilton Seppur non direttamente Sta già mettendo in discussione Mi viene a pensare Che forse Non abbiamo apportato I cambiamenti abbastanza grandi Se guardiamo le tre squadre davanti A noi Hanno ancora concetti diversi In alcune aree Ha infatti Fatto sapere Il 7 volte campione del mondo Proprio Tre team Che fanno lavorare Le loro vetture Con altezze maggiori Rispetto alla Mercedes Mentre la V15 Vuole correre molto a bassa E incappa ancora In quel sattellamento Che pensano di aver risolto Sono passati ormai due anni Da quando abbiamo scoperto Il sattellamento Ed è ancora qualcosa Che dobbiamo comprendere appieno Ha detto Wolf Ah boh ragazzi Sono fiduciosi per me Elburni Ve l'ho detto Io mi aspetto una Mercedes Che migliori Però a inizio stagione Per il terzo anno consecutivo Hanno sbagliato la macchina È evidente Che hanno degli strumenti Che non sono proprio adeguati Andiamo a vedere Senza pace Il problema Sono le curve veloci Qua pure si dice Su Motorsport Che C'è qualcosa che non capiamo Ha dichiarato Wolf Al termine del Gran Premio Della Bia Saudita Siamo veloci Praticamente ovunque Sappiamo che Abbiamo un'ala posteriore Più scarica E che stiamo compensando Quello che perdiamo in curva La propria alta velocità Che perdiamo tutto il tempo Sul giro Secondo Wolf Il problema non risalirebbe A un errore di assetto Bensì a uno legato Alla progettazione Della monoposto Molto più grave Credo che questo Sia un problema importante Non c'è molto Che potessimo fare Nel mettere a punto La macchina a jedda Le nostre simulazioni Ci indicano direzione E questo tipo di assetto Che poi scegliamo Dove Che è questo tipo di assetto Dove mettiamo l'ala posteriore giusta Credo che si possa guadagnare Qualche decimo Se senza secco O meno l'assetto Ma non c'è un corridoio Enorme di prestazione Si tratta più che altro Di una questione fondamentale Crediamo che la velocità Deba esserci Misuriamo la deportanza Ma non la troviamo Nel tempo sul giro Rispetto Rispetto ai due anni passati Wolf Sembra comunque Essere fiducioso Il problema Sorto nelle prime due gare Della stagione Può essere risolto In breve tempo Grazie al nuovo concetto Della monoposta adottata Quest'anno Che vi ho detto io Non date Mercedes Per spacciato Sono due anni Che abbiamo Che dobbiamo Individuare qualcosa Ed è questo aspetto Da sbloccare Dobbiamo solo lavorare Non è per mancanza Lo sta mettendo Lo sta mettendo Nelle migliori condizioni Tra strategie sbagliate Problemi tecnici C'è un feeling Non perfetto Con la vettura Il mondiale 24 Scaltato Con il freno a mano Tirato per Il campione del mondo Inglese Battuto da Russell Ah qua ci dice Che dobbiamo fare L'abbonamento No non lo facciamo Problemi tecnici In sede ai circuiti Inizio di stagione In Mercedes È stato di certo Al di sotto All'aspettativa in Arabia Gli ingegneri di Black Hanno faticato A trovare un asset Ottimale Nei curvoni veloci In pista Jedda Le difficoltà Di Lewis Hamilton Giaggerasse In ogni caso I risultati Sperati tardino ad arrivare Anzi dopo Un inizio promettente Ne testa V15 Sembra navigare Nella parte bassa Della zona punti Nel ruolo di quarto Persino quinta forza Se consideriamo Le performance Di Alonso Un quadro Non idiliaco In cui si aggiunge Lo scarso feeling Di Lewis Che al fine settimana Saudita Lamentato In non avere fiducia Il posteriore Troppo ballerino E che in più In generale Non ha mai Non è mai stato vicino Al compagno di squadra Per darvi il confronto Sia in gara Che nelle qualifiche Fin qui disputate Beh ragazzi Facciamo una piccola Disamina finale Da qua riusciamo a capire Che Mercedes Ha probabilmente Delle problematiche Nella progettazione Evidentemente Gli strumenti che c'ha Non sono strumenti Efficaci E portano spesso Il team A sbagliare Direzione dello sviluppo E della creazione Dell'auto Detto questo Abbiamo visto anche Quando Mercedes Si mette sotto Recupera situazioni L'anno scorso Da Barcellona In poi Torna a essere fortissima E a battere Ferrari Quasi sistematicamente Soprattutto nella gestione Gomme Nel fatto che riuscivano A portare Delle migliorie Che effettivamente Andarono a cambiare La situazione Quindi Ad oggi Direi che Mercedes È un team In netta difficoltà In modo da poter sviluppare Le auto E crearle in maniera migliore Questo è il problema Fin quando si fa Tutto il computer Se vecchio Un periodo dove I tuoi computer Non sono messi al meglio La tua galleria del 20 I tuoi sensori Non sono messi al meglio Fai anni di merda Come sta succedendo Perché è quello Perché è quello che sta accadendo Ragazzi Senza se Senza ma Io penso che Mercedes Stia anche Puntando tutto Sul Russell Facendo rimanere Dietro Hamilton Perché sa che Hamilton se ne va E non ci punta per niente Quindi Ha tutte le Necessità Mercedes Di far arrivare Davanti Russell Per poter dire Eh avete visto Abbiamo levato il più scarso Punto primo Per dare anche motivazione A Russell In un futuro In cui lui sarà Il primo pilota Perciò La Mercedes Sta anche facendo Questi giochetti Perché Non è solo Un problema di macchina Abbiamo visto Che Hamilton Anche le strategie Non è che Gli stanno andando incontro Cosa accaduta Già Peraltro Nel 2022 Quindi Questa è la situazione Mercedes Fatemi sapere Se secondo voi Torneranno forti O no Ci vediamo nei prossimi video Il vostro supercorso Ciao voglio